Shakhtar Donetsk Roma termina con la vittoria della Roma sullo Shakhtar, infatti lo Shakhtar fa soltanto un gol e basta, invece la Roma ne fa ben due di gol. La Roma gioca piuttosto bene, è una partita di Europa League, quella che c'è stata ieri dove la Roma ha messo in campo le proprie capacità, un dispiegamento di energie immenso, straordinario, dove la Roma ha letteralmente travolto lo Shakhtar in maniera determinata, ma soprattutto utilizzando un modo di attacco che mi ha lasciato davvero soddisfatto. Un gol soltanto, ripeto, per lo Shakhtar a firma di Junior Moraes al 59esimo minuto di gioco del secondo tempo, per quanto riguarda invece la Roma i due gol sono stati fatti entrambi da Boria Majoral al 48esimo minuto di gioco e al 72esimo minuto di gioco. La Roma dunque vince, ha in serbo grandi sorprese, la Roma va a fare una vittoria ververo straordinaria, equilibrata, piacevole, fantastica, dove tutte le capacità più forti che ci siano vengono ad essere impiegate in maniera energica e propositiva proprio da parte della Roma, sullo Shakhtar Donetsk, che non riesce ad entrare in partita e che perde clamorosamente. Complimenti dunque alla Roma, di Fonseca, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, e un cordiale saluto a voi da Leandro, il narratore italiano di YouTube Italia. Grazie a tutti.